Questa scultura nasce da quest'idea di voler rappresentare solidarietà attraverso l'arte, nasce nel cercare di voler capire, difficilmente ci si riesce, lo stato d'animo di chi viene oppresso da un giorno all'altro e si ritrova in mezzo a una guerra. Disperazione è in nome scelto per l'opera dello scultore Giovanni Pellini in arte Ilinep. L'intento è coinvolgere l'arte e la sua carica espressiva in un'azione di denuncia della guerra e di solidarietà verso il popolo ucraino. Questa scultura è legata anche alla mia corrente, al riflessismo, dove mi mette in evidenza le negatività e le debolezze dell'individuo e non c'è più negatività che un'aggressione di un popolo che dall'oggi al domani si trova in una situazione di enorme disagio. La scultura sarà donata mercoledì 23 febbraio all'ambasciata dell'Ucraina in Italia, data significativa in quanto vigilia del primo anniversario dell'aggressione russa. L'evento è il patrocinio del comune di Arezzo. La scultura è stata realizzata in pietra e acciaio con la tecnica dello sbalzo e di incisione e dalle dimensioni di 60 per 50 centimetri. Di fatto questa immagine di questi tagli di questa faccia di sofferenza con le mani sulla testa a volersi strappare questa ossessione nuova che è nata all'improvviso dall'invasione di uno stato, di una situazione di regolarità che uno viveva ed è un popolo oppresso.